All'inizio sembrava una rapina particolarmente violente e crudele, perpetuata ai danni di una donna intenta a fare benzina, con lo scopo di rubarle i soldi e l'auto. Invece i carabinieri hanno scoperto che si trattava di tutt'altro e che il furto serviva a coprire un vero e proprio pestaggio per ritorsione. Il tutto avviene nella notte del 26 settembre scorso presso il distributore di Filandari. Una giovane si ferma per far rifornimento alla sua 500, ma viene improvvisamente raggiunta da due giovani che la trascinano fuori di peso dal veicolo e la picchiano selvaggiamente a più riprese, per poi dileguarsi a bordo dell'auto che verrà ritrovata incidentata nel centro di Zungri. Finalmente i due sono stati identificati e arrestati. Si tratta di due cugini di Zungri, uno di 19 anni e uno di 25, inizialmente indiziati solamente dal reato di rapina aggravata, mentre ora gli viene contestato anche il reato di lesioni aggravate, avendo cagionato alla giovane la rottura del setto nasale e la trumefazione di entrambi gli occhi. Mentre al più giovane, che si è messo al volante dell'auto, è stato contestato anche il danneggiamento e la guida in stato di ebrezza. Noi facciamo dell'immediatezza e della nostra professionalità l'arma vincente contro questi fenomeni. La collaborazione della vittima è sicuramente stata fondamentale per scoprire la vicenda e per arrivare ai presunti autori del reato. Una vittima che effettivamente ha avuto problemi anche a riconoscere gli autori del reato, proprio per la violenza con cui gli stessi l'avevano picchiata. Quindi parliamo di un evento che ha origine da un rapporto, una relazione intercorsa tra i presunti autori del reato e la vittima. Abbiamo finalmente avuto dei testimoni che hanno collaborato e ci hanno aiutato a ricostruire la vicenda. Dobbiamo anche sottolineare che come abbiamo avuto testimoni, abbiamo avuto anche persone come Immortalate dalle Telecamere che hanno assistito alla vicenda e quando si sono resi conto che c'era un'aggressione in corso sono andati via dall'area di servizio. Quindi nonostante queste difficoltà e nonostante questi elementi positivi siamo riusciti in poco tempo a ricostruire la vicenda e a dare sicurezza alla vittima che dopo l'evento ha subito anche un percorso difficile psicologicamente. Quanto è importante avere una donna nelle forze dell'ordine che interroga una vittima donna? In questo caso ha sicuramente giocato un ruolo importante ma la cosa principale è che ogni operatore dell'arma dei carabinieri sia esso un uomo o una donna ha la stessa importanza e la stessa vicinanza nei confronti della vittima. Tutta l'arma dei carabinieri indipendentemente dal sesso è vicina a questi episodi di violenza e a queste donne che subiscono questo tipo di maltrattamenti. La cosa che è importante è che una vittima come quella che abbiamo visto noi a seguito di questa aggressione a cui era rimasta solo la voce perché nemmeno gli occhi riusciva ad aprire a causa delle forti lesioni subite ha avuto comunque il coraggio di continuare questa battaglia che non è solo la denuncia iniziale ma un continuo in tutto quello che consegue alla denuncia e quindi nel percorso a fianco alle forze dell'ordine ma è alla magistratura per perseguire i presunti autori del reato. E questo è anche un grido a tutte quelle donne che magari subiscono quotidianamente questo tipo di violenze che si possono rivolgere alle forze dell'ordine sia esse uomo, non importa dal sesso, sia esse un uomo o una donna l'operatore di polizia giudiziaria e i carabinieri sono qua per ascoltare questo tipo di denunce e questo tipo di appelli. Le immagini crude, terribili, terrificanti e paiono sconvolgenti nella sprezza della violenza di chi si accanisce selvaggiamente sulla giovane che si era fermata a fare benzina alla sua auto. L'efferatezza del reato è stata tale da suggerire al procuratore Camillo Falvo una riflessione ed un appello. Fermarestando la presunzione di innocenza dei soggetti che sono stati tratti in arresto questa mattina La ragione per la quale ho deciso di dare diffusione a quanto accaduto è per rimarcare la recrudescenza di questo fenomeno. Noi da tempo con i carabinieri che hanno proceduto negli ultimi giorni a diversi arresti di donne che hanno denunciato soprusi, maltrattamenti, incendio delle autovetture, fino ad arrivare all'episodio di ieri. Anche in questo caso, grazie al lavoro del collega Lotoro, dei carabinieri che sono stati tempestivi ad individuare i responsabili, i presunti responsabili di questo fatto, siamo riusciti ad accertare quello che è un fenomeno odioso di grande attualità. Le immagini sono eloquenti perché si vede questa donna che viene picchiata nel modo che le immagini ci restituiscono privata dell'autovettura e lasciata sul posto in condizioni veramente preoccupanti tant'è vero che in ospedale non riusciva neanche ad aprire gli occhi, aveva il volto tumefatto, non riusciva ad aprire gli occhi per riconoscere fotograficamente chi poteva essere stato a compiere il gesto. È importante però mandare un segnale, questa è la ragione per la quale rilasciamo questa intervista e ho dato l'autorizzazione a diffondere questo messaggio anche ai carabinieri. Bisogna spingere, soprattutto in un territorio come il nostro, dove c'è questa difficoltà a denunciare spesso le querele, come era successo anche in questo caso purtroppo, vengono ritirate dalle donne che subiscono violenza. A denunciare, a fidarsi dello Stato, lo Stato c'è, noi come in tutte le occasioni che sono successe in questi due anni siamo intervenuti tempestivamente e quindi è importante che la gente sappia che soprattutto queste dinamiche vengono immediatamente perseguite ed accertate. Poi sarà il giudizio a dimostrare se gli odierni arrestati sono i responsabili del fenomeno. Bisogna, rispetto ad un fenomeno così odioso come quello della violenza sulle donne, bisogna operare con un'attività di alfabetizzazione al rispetto della donna. Questo è importante, è importante qui da noi così come è importante nel resto del territorio nazionale.